Con l'arte e la cultura mangiare si può, è il messaggio che arriva da Sanio Irpinia Lab e ConfCommercio, che ad Airola presenteranno il progetto Impara l'arte Non metterti da parte, nell'ambito di arte di mezzo. Nasce un vero e proprio sindacato degli artisti in provincia di Benevento, che punta a dar voce a chi lavora nell'arte e nella cultura. Oggi illustriamo un progetto importante, forse unico nel suo genere, un'associazione che mette insieme gli artisti, che si occupa di arte e cultura in un periodo in cui c'è chi dice che con l'arte e con la cultura non si mangia. Sì, è fondamentale, abbiamo visto che è fondamentale dare voce a questi settori, che sono i settori su cui bisogna puntare per il futuro. Settori che sono presidiati soprattutto da giovani artisti, musicisti, associazioni che si muovono nel campo della cultura, che da un lato non hanno rappresentanza sindacale, quindi si trovano anche di fronte a difficoltà forti, essendo molto spesso free land, e quindi hanno bisogno di rappresentanza. Nell'ambito ConfCommercio vogliamo far nascere questo vero e proprio sindacato, che poi in realtà è una rete di professionisti, di imprese legate al mondo dell'arte, della cultura, che possa dare rappresentanza, ma nello stesso tempo possa costituire un gruppo eterogeneo, ma che possa essere capace di attrarre i fondi che spesso i ministeri, ma la stessa comunità europea, mettono a disposizione il campo dell'arte, della diffusione della cultura e soprattutto delle giovani professionalità. Questo è il senso, diciamo, di questa... Insomma, si vuol limitare un approccio singolo che viene indebolita la posizione dell'artista, dell'operatore dell'arte e della cultura, e fare una rete per rafforzare non solo il loro ruolo, ma anche quello forse del territorio. Sì, assolutamente. Essere soli non dà nessuna possibilità di attrarre fondi da un lato e di presentarsi su scenari che richiedono una competitività forte. Il semplice fatto di mettere insieme artisti che possano, in un ambito più controllato, possano anche essere competitivi fra di loro, significa dare impulso e far crescere sia gli artisti sia le associazioni. Quindi stare insieme è fondamentale, sia per fare rete, sia per creare la competitività all'interno di questo territorio, perché poi questi artisti, questi operatori della cultura possono essere competitivi all'esterno del territorio stesso. Iniziativa gradita da chi opera nel settore di arte e cultura. C'è chi opera in questa realtà appunto dell'arte, dello spettacolo, e dimostra che in un momento in cui queste professioni tradizionalmente vengono considerate aleatorie. Non è così, con la cultura e con l'arte si può anche mangiare. Sì, la Good Academy infatti si propone proprio di formare dei giovani che hanno dei sogni come quello del doppiatore, perché noi nasciamo come scuola di doppiaggio, e è un sogno diciamo relativamente difficile da realizzare, perché ci proponiamo di formarlo in tutto il percorso che va da una preparazione di edizione basilare a una figura completa che dopo circa sette mesi di scuola può presentarsi a fare dei provini e arrivare al famoso leggio per poter doppiare. Ed è importante per associazioni come voi magari rapportarvi con altre, fare rete assieme ad altre associazioni, assieme a chi si occupa di queste cose, di questo settore per avere una posizione migliore magari. Assolutamente sì, anzi questo progetto per noi è, a parte è stato un onore questo invito a questa conferenza, ma sì è importantissimo unirsi e creare una rete, anche perché noi formiamo un mestiere, però riusciamo anche a preparare, vorremmo essere da esempio insomma, per creare una piccola impresa in cui i giovani si possono buttare e possono prenderci da esempio, tra virgolette. Soddisfazione anche da parte del soggetto promotore, Sannio Irpini Alab. Luca Mauriello, direttore Sannio Irpini Alab, si conclude con questo progetto, un percorso importante che avete avviato e si conclude anche con qualche novità che già potete darci. Sì, in pratica noi il 17 di marzo al Teatro Comunale di Airola concludiamo questo progetto, nato un anno fa grazie al contributo del Bando Fander 35, che ci ha dato la fondazione Caripro insieme alla fondazione con il Sud, per promuovere giovani artisti della Valle Caudina, sotto la regia del nostro direttore artistico, il maestro Erasmo Petringa. In pratica l'intervento del 17 è un seminario, più che altro, per portare a conoscenza dei giovani artisti, ma anche dei giovani studenti che si avvicinano al mondo dell'arte, quelli che sono gli strumenti normativi per l'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo nell'ambito del settore artistico-culturale. Per questo abbiamo invitato e avremo la presenza per quel giorno sia di tecnici del settore, tra cui c'è anche l'Ampala, l'Agenzia Nazionale per il Lavoro, ci saranno i referenti della Confo Commercio qui di Benevento, ma avremo anche l'assessore regionale Serena Angioli, che è assessore fondi europei alle politiche giovanili, che sta in questo periodo promuovendo il bando benessere giovani. A tale riguardo volevo dare un po' in anteprima alla notizia che proprio oggi il Comune di Benevento ha selezionato tra i vari progetti presentati quello che vede capofila la nostra associazione insieme allo Confo Commercio di Benevento, ma anche ad altri partner, quindi è un motivo d'orgoglio questo per quanto riguarda la nostra associazione giovanile. E come ospite d'onore avremo infine il cantatore Eugenio Bennato, che verrà ad illustrare la sua esperienza di vita, da come l'arte, anche se fatta con passione e fatta per motivi non lavorativi, può in effetti, se guidata ed illustrata in maniera sistematica, può diventare un mestiere. Difatti il 17 noi insieme alla Confo Commercio di Benevento ci proporremo di lanciare questo progetto nell'ambito regionale, di aggregare, quindi di far nascere un soggetto che vada a tutelare gli artisti, giovani artisti che non hanno un punto di riferimento nell'ambito sia di assistenza giuridica, ma anche di assistenza alla sistematicità della loro professione. Grazie a tutti.